Questa donna, donne guardatevi il numero, donna numero 41, chi è la 41? Ehi, che fortuna, vengo qua, vado in pazienza. Allora, 41, ciao, ciao, come li chiami? Anche lei si chiama Barbara, da dove vieni, Barbara? Viene da Pescio, perfetto. Cosa fai di bello nella vita? È una parrucchiera, bene, vai, ottimo. Ogni riccio un capriccio, è proprio tu il privato. Facci una convenzione, stiamo in 330.000 noi. In Toscana abbiamo 3.000 iscritti, se ne è qualcosa da poco. Facci una convenzione, lo vediamo tutti. Scrivili, in privato. Benissimo, non solo no, non mi devi scrivere. Ascolta me, tu è come vorresti un uomo ideale. Allora, vorrebbe un uomo sano di mente. Non lo capito, ma sono tutti matti qua, gli uomini, in Toscana. Ma come mai? Guarda, la tua è due messaggi. E due è meglio di uno, eh. Sì, eh. Ebbene, sono due, vedi. Bene, bene, stiamo andando da grandissima, eh. Ragazzi, ho un messaggio per la numero 9. Numero 9. Eccola qua. Benissimo. Ciao, sei di nostri. Sei nostro.